Allora, ne facciamo altre tre di queste. Ok? Sì, sì, va bene. Allora, ragazzi... Scusa, scusa. Mettine uno. No, no, ragazzi, essere sinceri bisogna ancora fare. Perché non so che faccio il farinestro. Ma è una parezza... Con un po' di farina. Siamo di là. Sì, arriva, arriva. Non c'è una tezza. No, non è vero. È quello. Non è vero. È un video. Vai là, vieni qua. Allora, tocchi queste, le metti bene e torni indietro. Con la sigaretta. Fa quello. Mmm, riccio. Ok, stai qua, copi uno. Anche io, conto uno, due, due. Ok? Ok. Ma perché mi devi fare prima piada? Adesso è la lei. Adesso è la lei, sì. Aspetta. Qui, una burla. Non c'è la della camera? No, no. Dopo il tino... Marcello, Marcello, due veno. Poker face. Eh no, non ancora con la due. No, no, finca. Durante il tino. Marcello, due veno. Dai che stai mi imbarazzo. Invece nell'ultima la fate quando lei dice... Allora, su, parla su. Marcello, due veno. Ok. Ne facciamo una? Sto giro proprio. Allora, dipende molto bene. In bagno. In ufficio? Che cosa stai facendo? Sei in ufficio, sì. Sto facendo il backstage col dolly. Ma senza contrapesi. Dolly non viene molto bene. Ma che sei, era la GoPro. Fanno col dolly con la GoPro a noi. I mafiosi. Audio. Secondo me dovremmo pre-avvicinare, eh. Avvicinare? Hai conto che... Da qua. Luca, porta la coppa qua. E' la te la coppa, la testa, cara. E' mai. E' meglio così. La GoPro. Sì, guardiamo. Qual è? Guarda qua, di qua. Guarda qua, di qua. Ragazzi, ci vediamo. Stai tirando l'infarto. Non riesco? Tiralo in faccia. No, no, no. E' qua. E' sti tiring? Sì, che sti... Stai visto come erano fatti. Non dircelo, ce la dici dopo. Questo backstage col dolly. Che faccio? Dai, te. Dopo, dopo. Prendi l'olio per piacere. Sì. Vai là. Vieni qua. Vai là. Luca, porta la coppa qua. Coppa qua. Coppa qua. E' la te la coppa. La testa, cara. No. Ma. Grazie a tutti.